È il più importante torneo di tennis della nostra provincia e quest'anno si ripresenterà i blocchi di partenza con un livello qualitativo ancora più alto. Tutto pronto ormai per l'Open Maschile Nazionale Delta Rem Unipol Sai Assi Piacenza Tennis Cup, che si terrà alla società Canottiere Vittorino da Feltre. Dal 4 al 14 luglio i campi della società si trasformeranno in una vetrina che metterà in mostra tennisti da tutta Italia. Le novità sono un cambio di data, siamo tornati al torneo in 10 giorni, il tutto per avere un incremento a livello qualitativo del torneo. Quindi puntiamo ad avere qualche seconda categoria alta in più, è un Open a 5.000 euro, monte premi massimo per gli Open. Quest'anno inizierà il 4 di luglio, terminerà il 14 con la finale che presumibilmente sarà la domenica pomeriggio. La Vittorino in questo periodo sarà aperta per chi vuole frequentare il torneo e vedere le partite. Inizieranno il 4 con le partite, quelle di categoria più bassa e a seconda di quanti iscritti ci saranno, non sappiamo ancora quale sarà la categoria più bassa, potrebbe essere quarta come terza categoria. Questo è tutto da vedere perché il torneo è limitato a 100 iscritti. Le iscrizioni chiudono il 2 luglio per i giocatori di terza e quarta categoria, il 6 per quelli di prima e seconda. Si possono effettuare sul sito www.amicotennis.it